Una partita tra di noi che doveva servire per darci delle prime indicazioni di verifica dopo tre settimane di lavoro e che ci doveva servire anche a capire i vari assetti e i vari quintetti che questo roster ci può consentire di schierare. Buone indicazioni per quello che riguarda l'applicazione di queste tre settimane, ancora grandi indicazioni su quello che dobbiamo migliorare e perfezionare in un percorso ovviamente di consapevolezza. Inizieremo dalla prossima settimana a lavorare con maggiore dettaglio sulla parte difensiva che abbiamo volutamente tralasciato a favore di quello che secondo noi era anche un ottimo spunto per unire e collegare i ragazzi in questo periodo di crescita e di conoscenza reciproca. Buone indicazioni da tutti, poi la settimana prossima faremo colloqui individuali per chiedere dettagli e far vedere dettagli ad ognuno di loro per quello che vogliamo nello specifico ma sicuramente una cosa che potremmo ripetere anche nell'incertezza di quello che poteva essere il programma di ottobre anche legato alle prescrizioni dei protocolli del Covid. Un ottimo lavoro da parte di tutti e siamo veramente soddisfatti.